Geremias Rodriguez, perché ha litigato con Aida Espica e Veronica . Aida Espica e Veronica Angeloni attaccate da Geremias Rodriguez. . Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip, e ci sono state diverse polemiche, ma anche alcune sorprese. Difatti, gli autori hanno voluto fare un regalo ai due fratelli Rodriguez. . Quale? Dare loro l'opportunità di incontrare Belen. E i pianti si sono sprecati. Tuttavia, nonostante le tante raccomandazioni ricevute dalla bella conduttrice di Tusicuevales, pare che Geremias Rodriguez sia finito nuovamente nell'occhio del ciclone. . Cosa è successo stavolta? Stamattina ha litigato furiosamente con Aida Espica e la nota pallavolista Veronica Angeloni. Il motivo? Le due hanno accusato il bel fratello di Belen e Ignazio Moser di non lavare mai i piatti. . A quel punto Geremias è sbottato furiosamente, rispedendo al mittente ogni accusa, dichiarando. . Guarda che anche senza lavare i piatti io sono stato tra i favoriti. Nessuno vi obbliga a fare le cose. Io non me la sento e non li lavo. Forse la mia funzione è un'altra. . . Parole che non sono state affatto gradite dalle due donne, le quali hanno controbattuto, dandogli del bambino. Ma Geremias negli ultimi giorni ha fatto molto discutere anche per altri motivi. Geremias Rodriguez, la discussione con Aida Espica e Veronica Angeloni. . 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